eccoci qui ben trovati dopo il nostro top game terminato siamo rigorosamente in diretta e cresce l'attesa no con noi guglielmo perino e luigi abbate una sera mi spiace faccio vedere poi il souvenir che mi ha portato gentilmente luigi l'ho lasciato anzi chiedo a lorenzo se mi fa una cortesia me lo prende sono in una busta e ci sono dei trulli molto così facciamo vedere è un piccolo pensiero da parte della di lizzano bianconera del club che veramente vi apprezza professionalmente e vi stima oltretutto soprattutto come persone proprio per la capacità che avete ringraziamo di avere un legame diretto con vogliamo perché intanto vabbè lorenzo mi ha portato il trullo eccolo qui grazie luigi luigi no lorenzo lorenzo è il nostro producer juventino guardate qui juventino doc non potevano non essere bianconeri ma senti un po ma sono albero bello così sì 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 parliamo un po gli essi un pochino ma passiamo anche al piemontese allora un po di sms tarantino è un po più strascinato come fammi un po in forza juve in tarantino forza juve è più forza juve in tarantino forza juve più strascinato